buongiorno come state tutto bene? tutto bene tutto bene come va? tutto a vostro? tutto benissimo ricordiamo tutto rego? raga tutto rego io ti giuro che una volta gliel'ho sentito dire a walter cherubini te lo giuro ma qua recentemente che se ci ascoltate tutti i giorni sapete che è un uomo comunque distinto posato molto formale e poi una volta ho detto raga tutto rego voi tutto rego 3317853555 per chi ci vivesse in televisione stavo guardando che mi sa che ho toccato dentro una luce perché c'era uno sparo di luce gialla che avevo mai visto prima e ho dato un calcio a una luce per terra per sbaglio quindi io ho visto adesso questa cosa perché potete vederci dove? sul canale youtube di milano news ma guardate che studio anche rinnovato adesso rinnovato andando a monitor abbiamo messo grazie 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 mi è causato un mal di schiena pazzesco però e voi direte ah chissà mi ha messo un 78 pollici un 200 no 24 no neanche forse che non sia un 21 pollici neanche pesante non so che l'ho fatto a farmi male però come vedo che adesso tra un po' c'è in programmazione un bel luca carboni come vedo ragazzi eh sì 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 non subito però eh non subito fra proprio che verrà ecco adesso quindi passiamo a un nuovo gioco gli spoiler di Masini no 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 potete dire mandiamo le canzoni e poi non parte perché sapete che sono molto fan giorno nuovo fino al giorno nuovo sono i Negramaro insieme a Fabi Fibra alle 7 e 12 minuti qui il venerdì 24 novembre non l'ho ancora detto thanks god it's friday sì perché è venerdì oh ragazzi oggi poi è il black friday oggi è il vero black friday sì thanksgiving ieri eh hai mangiato il tacchino ma io ieri sono andato in un ristorante marocchino che guarda è strano che ieri sei andato a mangiare da qualche parte è bello che noi siamo i soliti idioti i soliti ignoti siamo anche un po' idioti sì siamo i soliti ignoti perché se ci metti in mezzo no no io non ho la trasmissione se ci metti lì in mezzo a una stanza chi dei due va sempre a mangiare al ristorante ovviamente tutti dito verso di me e invece no è lui è lui quello che è sempre e se è lui no è lui quello che va sempre a mangiare sì con The Fork perché sono come ti ho insegnato povero stirato ah ok stirato scusaci più povero sì ma credo davvero cioè adesso non voglio essere cattivo magari però ho mangiato tanta tanta carne sì eh vabbè un po' troppa forse saluto tutti gli amici vegani in collegamento scusatemi infatti chiedi scusa scusatemi in partenza quando mi hanno versato c'è questa carne allora facciamo un trigger warning se siete vegani fate bla 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 tutto il burro in questo vaso di terracotta che si è messa agli a girare la signorina e poi l'ha versato la carne col burro? no col grasso non so cos'era ecco e si è messa a versarlo ha detto adesso scende il grasso è sceso tutto ha detto ha fatto anche lei un trigger warning ha detto attenzione adesso scende il grasso e poi ha rovesciato questo vaso di terracotta signor asugna scende adesso mamma mia vabbè ristorante marocchino non sono prestato buono per i vegani per i vegani ho mangiato un'ottima zuppa di vabbè il sughettino siamo a zuppa ceci lenticchie della pasta un po' ma veramente veramente buona ho paura stamattina dei rumori che potresti fare no 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 meno male meno male 3317853555 arrivano i primi whatsapp Alberto ci dà il buongiorno buongiorno amici del mattino e buon inizio di weekend e ovviamente ci ricorda i messaggi aperti io li adoro perché ci parte e poi tac di alla staccata nuovi shop per i trasporti in vista eh sì va bene non ce lo ricordavo già c'è ATM e il giornale che ce lo ricordano vai 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 racconta oggi è prevista per le 11 davanti al al deposito ATM di Viale Sarka se non sbaglio una conferenza stampa in cui si spiegheranno i motivi e si spiegherà per bene verrà come per dire ufficializzato lo shoppero dei trasporti pubblici di USB sì quindi non potete taccare il mouse ma in realtà non si può taccare niente all'USB ma in realtà un po' tutti lo danno per certo già anche se non c'è stato ancora un comunicato ufficiale perché sarà sicuramente per certo tanto che si sta già muovendo il ministro Salvini c'è un'altra precettazione in vista sembrerebbe comunque fatto sta che ATM sarà coinvolta le fasce di garanzia sono sempre le solite prima delle 8.45 sì e dalle 15 alle 18 tu sai che sei l'unico che dice lo shoppero al contrario rispetto agli altri? io dico quando potete andare non quando non potete andare ma no ma quando potete andare cioè io invece dico lo shoppero è dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino a fine servizio ma se io dico le fasce di garanzia per fasce di garanzia si intende quelle inquinibili sì 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 ma sei l'unico al mondo che fa così è tutto lo volevo dire comunque per rimanere in tema ATM sapete che c'è la sua bellissima app che adesso è tutta nuova puoi anche mettere il dark mode o il light mode sì sì no è una roba e c'è sempre in un page cioè nella pagina principale dell'app un quadratino che è quello dove entrano dentro gli alert le notizie che si chiama succede ora anche a me è nata ieri sera succede ora ad esempio c'è un incidente stradale in questo momento in piazza Corvetto e quindi bus a 77 bus 84 la 93 e la 95 hanno delle deviazioni o saltano alcune fermate sotto al succede ora c'è manifestazioni e altre cose da sapere se tu lo apri che si chiama cose da sapere sotto manifestazioni e altre cose da sapere c'è una paginata di roba ad esempio che oggi ci sono due manifestazioni quindi alle 9.30 in Conson Monfort che termina in piazza Fontana e quindi il 12 19 24 27 60 61 84 85 queste linee saranno coinvolte poi alle 18.30 ce ne sarà un altro di corteo sempre in centro però da Corso Sempione fino ai giardini Leagarofalo quindi piazza Baiamonti e anche qui le linee 1 2 4 10 43 57 70 94 sulla ruota di Milano sono a non dei prolei ma la cosa più divertente è sotto complimenti all'ufficio marketing già lo dico complimenti all'ufficio marketing comunicazione e tutto quello che è cose inutili di ATM allora Madonna al forum ok va bene c'è sempre una gag sì sì c'è la gag c'è la gag più veloce di un ray of light la metropolitana vi porta al concerto di Madonna sì sì c'è sempre la gag allora perché mi costa come uno stipendio se non lanciavo il cellulare giuro ah no c'ho l'assicurazione potrei farlo comunque ma no ma dai sono carine queste qua no non sono carine no no sei ATM non sei Lercio non sei Fabio Ranfi Lorenzo Masieri di Good Money Milano però vanno vanno è inequivocale vanno vanno avanti perché vanno sempre no c'è abbiamo un altro tappetino tranquillo l'ho messo dunque perché volevo mettere polemica su questa cosa no perché tra l'altro non ti sto appoggiando ecco tra parenti non mi stai neanche appoggiando infatti cioè più veloce di un ray of light perché domani sera c'è il concerto di Madonna c'è stato ieri sera e domani sera quindi Madonna quindi Madonna non ha più l'età per fare due concerti di fila no mentre Vasco Rossi Bruce Prie beh Bruce Prie e Madonna forse sono quasi coetane i Rolling Stones non so se ne fanno due di fila ma secondo me gli gira un camion per la dialisi che li segue o qualcosa del genere un polmone d'acciaio che appena finito li vengono isteriti dentro vengono rigenerati genicamente o forse è la I intanto no che li crea proprio li stampano in 3D intanto Trenord 27 novembre 2023 sciopero nazionale sottolinea che interessa esclusivamente il personale del gestore dell'infrastruttura ferrovia Nord SPA come era successo per lo sciopero precedente quindi non dipendenti Trenord quindi non i treni ma i gestori dell'infrastruttura ma i binari quindi li montiamo sulle gomme li facciamo andare in strada questo è quanto se volete qui nella via c'è il gommista portiamo qui i treni di Trenord li montiamo sulle gomme li facciamo andare per strada una volta ho visto una metropolitana su un camion così volevo dire c'ho anche la foto da qualche parte sulla tangenziale c'era sto camion che trasportava due convogli della M2 cioè due convogli due vagoni scusa un convoglio sono un po' esagerato ricordiamo anche che la protesta coinvolgerà anche il personale dei bus auto guido via e quindi sostanzialmente se dovete muovervi lunedì badate bene badate bene a quale mezzo scegliete e agli orari eventuali di sciopero adesso invece andiamo a vedere il traffico andiamo a vedere la viabilità grazie appunto a Luce Verde al collegamento con Luce Verde ma soprattutto quando torniamo da Luce Verde c'è una canzone che prima hai dai annunciala Mare Mare di Luca Carboni grandissima canzone al 24 novembre c'è già voglia di Mare eh sì Luce Verde adesso il traffico in linea diretta con Luce Verde 7 e 32 minuti di nuovo qui Good Morning Milano di nuovo qui su Crystal Radio con Marco Bengoni che ci dice che è tutta un'altra storia è tutta un'altra storia però non è molto ottimista come canzone mi sembra la canzone la canzone dell'ottimismo mi sembra facciamo un velocissimo metto almanacco anche perché non è che sono belle le notizie come sempre ve lo ricordiamo allora nasce Paola Cortellesi record record Paola Cortellesi allora 20 milioni di euro ed è la settima regista in Italia il settimo regista italiano tra maschi e femmine che riesce a superare questa cifra solo 7 nella storia Sorrentino Sorrentino Salvatore può essere non so e poi altri bell'occhio non so sì quindi Morino non so bene 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 poi 50 anni si può dire perché è una cifra tonda dai si può dire 50 anni no tra l'altro portati egregiamente se lo sai si dice sempre ma in questo caso veramente di chi stiamo parlando dimmi chi sono della Cortellesi ah scusa no no pensavo fosse un altro comprando ancora no no della Cortellesi che è perennemente uguale a quando faceva ah sì Olmo Olmo era eh sì ma c'era lei cantava con Olmo sì sì lei era la seconda voce io mi ricordo quando faceva Magica Kid sì sì Magica Kid no andiamo avanti no ma cos'è Magica non mi ricordo come si chiamava era Magica Magica Trilli Trilli lì a mai dire gol sì poi Vanessa incontrata ok quanto ne fa? 45 portati da Dio anche da lei sì benissimo e scompare oggi 32 anni fa il frontman The Queen Freddie Mercury oggi 22 novembre eh sì 32 anni fa assurdo già 32 anni sono passati sì mamma mia e nulla questo era sostanzialmente il momento al maracco adesso iniziamo con le notizie con la nostra rassegna stampa come tutte le mattine qui su Cristal Radio Milano vi ricordiamo 331 378 535 555 se ci volete scrivere è arrivato è arrivato un whatsapp dimmi Magica Trippi Magica Magica Trippi non era Trippi scusate grazie mille 331 7853 555 ci ricordano che era Magica Trippi non sapete noi abbiamo l'ansia da prestazione qua quindi ogni tanto ci perdiamo delle cose basilari tra parenti sappiamo benissimo anche quante volte li ho visti con gli spezzoni quindi ogni tanto andiamo così fuori fuori confusione e ci circoliamo quindi oggi dicevi che è l'anniversario della morte di Freddie Mercury ma a questo punto prima di addentrarci nelle cattive notizie eccetera perché perché non sentire un po' di Queen con The Show Mas Gone tra parentesi credo sia un po' un po' l'eredità perché lui qua già sapeva di essere malato e dice ma lo show deve andare avanti e quindi così ci lascia questa questa bellissima canzone che ci racconta sempre che nonostante le cose vanno in certe maniere The Show Mas Gone che non vuol dire il business in realtà era tutta un'altra la sua storia poi viene usato spesso per quella roba lì no business is business andiamo avanti The Show Mas Gone in quel senso no no The Show lo show della nostra vita a volte deve andare comunque avanti o comunque lo show deve continuare allora andiamo ai Queen alle 7.36 qui su Crystal Radio The Queen The Show Mas Gone che emozione che emozione quindi un ricordo ovviamente a Freddie Mercury che in questo caso sai che si dice che troppo presto ci ha lasciati ed è effettivamente così in questo caso proprio davvero chissà quanto quanto ci siamo persi di altri non lo direi no no ti dico la verità di altri non lo direi di Carcobè non lo diresti no anche di Carcobè non lo direi forse no no adesso dico una cosa dico una cosa in proprio anche visto la canzone di ieri in onda di John Lennon non lo direi nel senso che secondo me avrebbe avuto difficoltà ad adattarsi al mondo moderno dopo di che avrei preferito vederlo in difficoltà adesso piuttosto che morto nel senso che mancherebbe penso tutti secondo me Freddie a qualche anno ancora ce l'aveva i come da dire cose nel senso ma magari nel 2023 li vedo un po' tutti in difficoltà tranne Rolling Stone che a me sembra sempre uguale anche quelli di buoni tanto però anche lì sono rimasti ma si ma poi fanno un po' la coppia a carbone delle loro canzoni meno importanti anche come ti ha detto con un po' gli anni che non li tirano fuori dopo un po' cosa devi fare infatti però è come come Kiss i Kiss fanno il tour da Dio da 20 anni ma sono animali da palcoscenico e secondo me se lo lasciano devono continuare infatti una volta che fai una vita da tour è come quando sposti una pianta dalla sua posizione basta a quel punto non prendi più la luce giusta fai per 40 anni la vita da tour poi come fai a finire infatti è quello che mi fa sorridere di Vasco quando dice basta non faccio più concerti e poi 74 date al palazzetto 39 milioni di date a San Siro le mie dimissioni da Rockstar sono state respinte ah così adesso respinto come è stato il provvedimento mamma mia ma quanto sta diventando bravo questo ragazzo l'ho scoperto io l'ho creato io l'ho scoperto quello famoso di area B e C il pacchetto mobilità promosso da Arianna Censi in particolare assessora della mobilità del comune di Milano che prevedeva l'obbligo di sistemi di rivelazione negli angoli ciechi per i TIR ecco ieri mattina è arrivata la sentenza del TAR della Lombardia che dà ragione ad Assotir che aveva presentato il ricorso diciamo e che ha annullato sostanzialmente gli atti del comune di Milano che prevedevano appunto questa cosa non è arrivata due mesi sta roba il primo ottobre è andato in vigore il 24 novembre ma è tale si esprime così velocemente eh sì non lo sapevo vabbè è finita sostanzialmente in un nulla di fatto sembrerebbe però adesso che Assotir stia andando verso diciamo stia tendendo la mano al comune di Milano promuovendo il fatto di far muovere i TIR verso i cantieri solamente di notte ok però bisogna vedere nel centro città un po' più fuori non si capisce per bene comunque questo è il fatto e il comune di Milano da quello che sembrerebbe ah no sì lo dice Repubblica Milano il comune di Milano virgolettato faremo ricorso eccola nato ricorso io l'ho fatto con San Siro adesso lo fanno con questo non lo so io trovo tutto molto 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 surreale molto surreale sì purtroppo sì capiremo capiremo a me sembra una cosa adesso scusate se do parere personale di solito mi astengo sempre quasi mai ma in un paese nel 2023 in un paese civilizzato dei sensori di di prossimità negli angoli ciechi di TIR che sostanzialmente è il 90% della loro visuale a me sembrerebbe una cosa banale se non ricordo male è stata rigettata per via di un conflitto di interessi politici cioè interessi amministrativi giudizi cioè come si dice legislativi scusa nel senso che il comune entrerebbe in una in una come si dice madonna mi mancano le parole mi mancano le parole lo riassumo sì cioè dovrebbe fare lo Stato esatto lo riassumo portandolo all'effetto Arianna Censi assessora della mobilità al comune di Milano ha detto al ministro Salvini lo integri subito nel famoso nuovo codice della strada che sarà un mallopone grosso così da quanto se ne parla non metterci tutto lì dentro pure il ponte il ponticino pure le cose sul ponte di Messina le istruzioni di montaggio del ponte sullo stretto è come per quelli dell'Ikea c'è sempre l'amico con la matitina di fianco che ti deve aiutare e l'hanno fatto simile a Silvio Berlusconi perché sai che vogliono chissà quante brugole ti danno nel manuale di istruzioni per montare il ponte dello Stato di Messina non lo so comunque il tema è quello il tema è che il comune per una volta che prova a fare qualcosa forzando un attimino o forse volutamente anche fatto in questa maniera il Tare invece dice no non sei tu comune che devi legiferare su questo tema e ovviamente quindi dicono ok quindi adesso caro il mio governo fai tu perché qui abbiamo bisogno di più sicurezza sulle strade cosa che va nell'interesse di tutti il fatto che ci siano dei sensori di movimento ma credo che appunto infatti è anche interessante complimenti a Sotir che dice va bene ok adesso sta roba del sensore la mettiamo da parte ma cerchiamo comunque la soluzione di risolvere il problema quindi ho per fortuna ogni tanto un po' di civiltà rimane va anche negli interessi di Sotir il fatto che purtroppo non ci siano morti in strada eccetera ovviamente adesso dico brutto ma insomma non deve essere una cosa comoda quando tu con un tir fai un incidente molto grosso ti viene fermato il veicolo ti viene fermato il cantier è complicato da tutti i visti legali comprendiamo comprendiamo adesso andiamo con i Black Eyed Peas guarantee 7.46 minuti Crystal Radio good morning Milano guarantee Black Eyed Peas e ricominciamo con la rassegna stampa le notizie di Milano ieri sera è successo qualcosa di molto 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 importante interessante esatto e altretanto importante ciò che succederà nei prossimi giorni essendo intorno domani domani la giornata contro la violenza sulle donne ieri passeggiata arrabbiata di non una di meno titola la Repubblica Milano appunto per ricordare Giulia Cecchettin e tutte le vittime di femminicidio alle 19 partita in darsena appunto la manifestazione anche in questo caso piuttosto che il silenzio hanno deciso di fare rumori ai partecipanti e quindi chiaramente diamo notizia di ciò che è successo ieri sera come diamo notizia di ciò che succederà domani 25 novembre alle 11 in Largo Cairoli quando inizierà il corteone quello diciamo quello ufficiale quello ufficiale in memoria di tutte le donne vittime di violenza mi è interessante anche il nome della giornata del 25 di novembre che è la giornata per l'eliminazione della violenza verso le donne poi comunque violenza di genere in toto e domani credo appunto alle 11 giusto dicevi? alle 11 in Largo Cairoli e credo che domani tutti quanti si debba andare sicuramente cioè si sarebbe dovuto andare sempre ma ahimè domani sarà chiedo scusa per non essere andato gli scorsi anni domani ad esempio io ci sarò e sarà sicuramente molto partecipata chiaramente anche alla luce di ciò che ci sarò vergognandomi di non esserci stato di altre volte vergognandomi di esserci questa volta solo perché è venuta l'ennesima vittima che ci ha colpito di più delle altre e quindi davvero sarà interessante capire come noi maschietti domani siamo lì anche per chiedere scusa e lo so che non siamo tutti quella retorica del non siamo tutti veramente sapete dove potete mettervela ecco sicuramente ci sarà anche una partecipazione da parte di di uomini che chiaramente si immagino immagino proprio di sì spero che che sia chiaramente che vedremo delle belle delle belle piazze ma sicuramente domani gireranno come sono girate le foto per le biciclette gireranno le foto per quello per quell'altro ovviamente domani gireranno una marea di foto in cui ci saranno una marea di persone e vari cortei organizzati tra l'altro comune per comune ci sono iniziative dappertutto non c'è solamente quella di Largo Cairoli ovunque sono organizzate in realtà è una settimana di eventi perché comunque a prescindere da quello che è successo la settimana che precede il 25 di novembre è sempre piena di tanti eventi manifestazioni incontri interessanti e forse effettivamente ci siamo un po' abituati a questo tema fino ad oggi e invece adesso bisogna di nuovo risvegliarsi lo ripeto noi ne abbiamo parlato adesso per la prima volta semplicemente perché abbiamo un tenore in realtà ci sono un tenore molto diverso poi credo che in questo momento davvero meno maschi parlino meglio è la dico più brutta così nel senso sì lo so sarò un paraculo perché dico sta cosa non lo so però lo dico nel senso che parliamo di altro noi e lasciamo invece per una volta che parlino loro visto che spesso è troppo volentieri non le facciamo parlare perché siamo bravi a sovrastare a dire sì da ma aspetta lascia parlare meno no ma guarda non so basta comunque no scusa ci prendiamo sì torniamo sulle notizie no ma te la dico questa allora te la dico è una cosa stupida è una cosa stupida il promo dello scorso anno di Gommoni Milano sì era una ragazza che conosci bene tra parentesi Sara che faceva degli annunci e io la azzittivo per dirgli no no lascia fare a me ma era un uno sketch ok va bene fa ridere divertente ma perché non abbiamo fatto lo sketch al contrario eh no 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 e comunque non sarebbe non ci è venuto neanche in mente capito cioè è una veramente una stupidata tra parentesi posso fare una critica a questo punto a me stesso perché l'ho fatto e posso dire che abbiamo in onda due promo su Cristal Radio che fanno ancora la stessa cosa si può dire sì abbiamo in onda dei promo che fanno questa cosa ma l'ho fatto anch'io cioè l'ho fatto io non vai in onda al nostro promo solo semplicemente perché abbiamo cambiato orario e perché il direttore mi ha chiesto di fare un promo tre mesi fa non l'ho ancora fatto cioè se no sarebbe andato in onda questo è tutto un altro discorso che sarebbe da approfondire sul rimandare a domani di Fabio Raffi ma questo è un altro discorso no se no sarebbe andato ancora in onda quello sketch lì con Sara con Sara che diceva delle stupidaggini e che diceva no no lascia fare ci penso io perché tente se mi ingabbona c'è questo io chiedo scusa per questo promo so che è una stupidata so che però col senno di poi anche queste piccole cose fanno parte di tutta quella roba lì e io sicuramente non avrei mai preso Sara cinghiate perché no cosa dici cioè non era quel tema ok mai poi mai ma l'ho fatto l'ho fatto con i migliori dintenti con ridere Sara felice rideva come una matta quando abbiamo fatto questo promo ma l'abbiamo fatto e quindi per quello secondo me domani è importante che ci siano tanti maschietti tanti uomini si spererebbe ma in realtà forse siamo solo maschietti a volte e e anche qui c'è comunque del patriarcato in questo che ho detto c'è poco da fare ci caschi sempre ci caschi c'è poco da fare bisogna chiedere scusa punto e basta Carlo Monguzzi sa che ha una sigla in questa trasmissione no non lo sa sa Monguzzi che ogni volta che noi leggiamo notizie sue abbiamo coniato un jingle oramai perché abbiamo sempre nuove informazioni che arrivano da lei e allora abbiamo un jingle che fa radio Carlo Monguzzi quindi insomma ha anche una sigla pensi come siamo stati così mi sembra giusto mi sembra giusto ok allora sta bruciando un autobus alinate mi ha scritto una cittadina è stato scusi sta bruciando un autobus alinato ecco a posto benissimo iniziamo bene anche quest'oggi no bene mi ha scritto una cittadina adesso ok allora adesso approfondiamo approfondiamo intanto allora le passo come si dice in questo caso le passo al telefono il buon Masieri Masieri so che ha tante domande per il consigliere Monguzzi sì perché parliamo spesso parliamo spesso e non possiamo non iniziare poi parlare chiaramente anche d'altro con quello che è successo giovedì scorso in consiglio comunale abbiamo letto è stato un consiglio comunale che ha fatto parlare di sé soprattutto per l'intervento del sindaco e poi chiaramente siamo andati a vedere a recuperare il suo intervento che comunque a livello di toni diciamo che ha retto il confronto con quello del sindaco ecco ci vuole spiegare un attimino consigliere sì si stava discutendo giovedì una mozione del centro-destra di sfiducia all'assessore grandi io personalmente mi sarei astenuto la mozione sarebbe stata bocciata e quindi era una cosa relativamente tranquilla a un certo punto il sindaco è sceso dal suo ufficio e ha fatto un intervento molto diciamo forte molto molto poco tranquillo tirando in ballo gli ambrogini argomento che non c'entrava assolutamente niente ma ha detto una cosa che ha lasciato tutto il consiglio comunale allibito cioè ha detto qui c'è gente per bene che lavora e c'è gente per bene che non fa niente critiche basta allora siamo insorti tutti ognuno a suo modo chiedendo chi sono quelli per bene chi sono quelli non per bene e dicendo che su gli ambrogini erano state fatte delle clientele e quindi abbiamo chiesto cosa vuol dire clientele sindaco si è un po' è rimasto un po' probabilmente ha capito di avere ecceduto c'era anche il pubblico e anche il pubblico non capiva cosa centrassero gli ambrogini con la sfiducia la grandi chi fossero quelli per bene e io sto ancora aspettando di capire chi sono quelli per bene e chi sono quelli non per bene perché vede si può pensare che la politica sia una cosa che chiunque dice quello che gli pare io sono all'antica secondo me la politica è una cosa seria la politica istituzionale cioè fatta nelle istituzioni deve essere serissima se un sindaco che a me sta assolutamente simpatico dice qui c'è gente non per bene poi non è che ci si può mettere una pietra sopra e basta ma capire chi è per bene e chi non è per bene io personalmente sono uno ma Guzzi ha detto che le sta simpatico il sindaco io vorrei capire chi non le sta simpatico allora cosa le fa però perché insomma non gliene fa passare una questo sindaco eh ma attenzione se io pensassi che il sindaco sia uno che non va bene direi il sindaco non va bene siccome io sono paleocomunista e sono orgoglioso di essere stato eletto in una maggioranza di centrosinistra vorrei che questa maggioranza di centrosinistra facesse cose di sinistra e ambientalista quando non le fa io critico ma critico perché poi queste cose vengono fatte se mi vi faccio degli esempi certo è purtroppo una città dove le disuguaglianze sociali aumentano è una città dove c'è una cementificazione che neanche la ricostruzione del dopoguerra era così la ricostruzione post bellica costruivano meno case c'è smog c'è traffico il traffico in aumento il verde è curato male quando c'è stata la siccità sono stati fatti morire 14 mila piccoli alberi non perché ci fosse la siccità perché Milano è piena di acqua sotto ma perché sono stati curati male allora io vorrei che tutte queste cose fossero affrontate ma non da uscite stampa estemporanee ma da provvedimenti la gente chiede provvedimenti per quello io incalzo la mia maggioranza consigliere quando all'indomani dell'esondazione del Seveso noi abbiamo preso il suo post come manifesto possiamo dirlo non è la pioggia il cemento purtroppo però se ne parla sempre il giorno dopo il riferimento all'esondazione e poi si riprende il cost il day after tomorrow già non se ne parla più infatti esatto purtroppo infatti è il coccodrillismo cioè succede l'evento e tutti mamma mia mamma mia e tutti dobbiamo fare la protezione del suolo dobbiamo disasfaltare dobbiamo decementificare la colpa è dell'uomo che ha fatto disastri dura dalle 48 alle 72 e poi va avanti assolutamente tutto come prima avete dato voi stessi conto del disastro di Cascina Merlata ragazzi Cascina Merlata allora ci segue il consigliere Monguzzi ah bene 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 ragazzi io ho dei servizi segreti che vi tengono sotto state molto attenti posso dire però si mangia bene Cascina Merlata quello si quello si è vero non sapevo che eravate di sinistra perché già il dire che si mangia bene è una qualità sicuramente però si poteva mangiare bene anche in modo diverso lì la Cascina Merlata c'era la Cascina e poi c'era tutta un'enorme area non edificata è stato scelto di edificare tutto doveva essere un quartiere car free che mi dicono i più informati vuol dire senza auto e le foto delle colonne di auto degli ultimi giorni dicono che è stato fatto un clamoroso errore allora io vorrei che questi errori non venissero fatti perché vede noi faremo un nuovo piano di governo del territorio che per gli ascoltatori è quel documento che diciamo dice cosa si fa e cosa non si fa dal punto di vista dell'edificazione a Milano che i cui titoli sono bellissimi la città più equa la città più sostenibile poi appena c'è qualcosa di concreto come Cascina Merlata si va nella direzione antitetica e quindi io dico non va bene ma dico non va bene ma non è che lo dica io perché sono un po' bizzarro ma lo dicono le persone c'è stato un casino a Cascina Merlata che ha coinvolto 20.000 30.000 persone no non pochissime no vediamo vediamo anche le foto delle macchine sulle uole vediamo le foto delle code vediamo la mancanza di provvedimenti sulla questione del parcheggio come spazio pubblico me la dice lunga se lo stesso presidente del municipio 8 dice diserto in inaugurazione perché avevamo dei piani su come usare i posteggi per i residenti ma poi questi piani sono andati disattesi insomma interessante anche quello certo voglio dire è la presidente del municipio che ha detto così non va e non l'ha neanche detto in modo pacato l'ha detto in modo direi alla Monguzzi radicale anche alla Pelucchi nel senso che non è mai è una che ci va giù bella diretta e grazie e grazie perché almeno perché a me la cosa che piace di meno è quel modo di dire le cose tranquilline se uno deve dire una cosa non va bene deve dire una cosa non va bene senza girarci intorno che poi alla fine uno che ascolta è talmente stanco che non capisce cosa viene detto la presidente Pelucchi ha detto è stato fatto un errore cerchiamo di riparare l'errore ha detto soggetto predicato e complemento al genere Monguzzi torno per l'ultima volta sul suo intervento di giovedì scorso per l'ultima volta lei ha chiuso chiaramente ha detto Beppe devi scusarti perché oggi ha insultato tutto il consiglio comunale da quello che prima ha detto mi pare che le scuse non siano ancora arrivate e in secondo luogo ha fatto una domanda ha posto una domanda tu pensi che noi possiamo andare avanti altri tre anni con l'incapacità di questa giunta e io questa domanda gliela devo rigirare Monguzzi perché comunque lei sostiene la maggioranza io sostengo la maggioranza che è una maggioranza che si è presentata in campagna elettorale dicendo faremo non faremo applicheremo il piano aria-clima combatteremo le povertà lavoreremo sugli affitti troppo cari e io voglio che queste cose vengano fatte siccome o sono solo quelli che parlano con me però voglio dire ormai le parole avvengono attraverso i social ma per quanto mi riguarda sulla metropolitana sugli autobus e nei supermercati dove si fa la spesa io incontro solo gente scontenta ma di destra di sinistra informati meno informati colti non colti e queste persone bisogna ascoltarle immagino che anche voi abbiate questa sensazione e quindi andare avanti tre anni facendo finta che tutto va bene vuol dire consegnare la città la destra che per me che sono di sinistra non è buona cosa invece ci sono delle cose da mettere a posto il traffico va messo a posto non si può continuare a dire dobbiamo diminuire le auto dobbiamo diminuirle davvero ma dobbiamo diminuire le auto di chi può lasciare a casa l'auto dobbiamo dividere le persone chi non può non utilizzare l'auto e deve continuare a utilizzarla questo è evidente però c'è tanta gente che usa l'automobile in modo futile e questi gli va detto tranquillamente con gli interventi con le multe con la dissuasione che è meglio che lo lasciano a casa perché la città così è in difficoltà quindi il dire non possiamo andare avanti così è dobbiamo ascoltare le persone faccio un gancio faccio un gancio con quello che stava dicendo Monguzzi siccome ieri non so l'ultima volta che siamo sentiti al telefono io le avevo chiesto della Bike Me abbiamo visto che ieri la consigliere la consigliere ci ha confermato sento a spezzoni scusi allora praticamente l'ultima volta che ci siamo sentiti abbiamo parlato della Bike Me di prolungare l'orario eccetera e ieri è stato discusso in consiglio e su quello che stava dicendo c'è stato un intervento di Enrico Fedrighini che tra l'altro dopo ciò che è successo in consiglio comunale è passato dal gruppo sala sindaco al gruppo misto ha dato sostanzialmente un dato fondamentale ossia che nel weekend il consumo di Bike Me sale di molti punti percentuali cosa che non succede durante i giorni lavorativi e quindi spingere in quella direzione è un po' quello che stava dicendo lei sostanzialmente invitare a non utilizzare la macchina nei giorni lavorativi principalmente a me va benissimo che poi la gente il sabato e la domenica vada in giro in bicicletta perché si diverte ma ci mancherebbe altro quello su cui puntiamo è però anche che la bicicletta sostituisca dove è possibile dove è possibile l'auto è ovvio che uno che ha il femore rotto non va in bicicletta o uno che ha 170 anni fa fatica però c'è tanta gente dai 5 anni ai 95 che è bella razzilla che può andare in bicicletta e quindi noi lì dobbiamo puntare lì dobbiamo dare la maggiore offerta perché se no chi usa l'auto e trova comodo usare l'auto continuerà a usarla perfetto allora Monguzzi le chiedo ancora se può rimanere qui con noi qualche istante noi adesso mandiamo siamo una radio quindi non possiamo non ascoltare un po' di musica ascoltiamo Nicky Miage e Icy Spice e poi torniamo qui sempre con il consigliere Monguzzi Monguzzi sta qui con noi allora volentieri grazie ok allora fra poco sempre qui in diretta su Crystal Radio con Good Morning Milano il consigliere Monguzzi in collegamento e poi parleremo appunto di tanto tanto altro sempre qui a Good Morning Milano Nicky Miage e Icy Spice Lil Nasix Old Town Road e parlando di road parlando di viabilità parlando di mobilità so che avevi una domanda per il nostro consigliere Monguzzi eh sì perché il 26 domenica partirà il forum della mobilità consigliere Monguzzi io ho letto le dico i termini che ho trovato che ha scritto greenwashing eh propaganda eh lo conferma sempre belle parole lo conferma è difficile difendere queste campagne ne stavamo parlando anche prima questo è oggettivo è oggettivo è oggettivo ok va bene questo è il manifesto politico di Lorenzo Masieri io non sento niente non ci sente consigliera non ci sente non ci sente consigliere no strano dovrebbe sentirsi voi mi sentite sì 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 la sentiamo controlliamo un attimo la connessione qua non capisco come sia possibile che non si senta no io la sento aspetta vediamo un attimo che ci sente sì eccoci eccoci perfetto ok ha perso la connessione adesso è tornata stavamo dicendo consigliera appunto in tema di mobilità eccetera il 26 quindi domenica partirà il forum della mobilità io ho letto un po' dei termini con il quale ha descritto questo questa campagna che è difficile da difendere come un po' tutte queste campagne ci vuole dire un po' cosa ha avuto tante belle parole abbiamo visto guardi purtroppo a Milano c'è organizzati dalla nostra giunta un numero di convegni presentazioni inaugurazioni che è pari a tutti i convegni inaugurazioni e presentazioni che vengono fatte contemporaneamente negli Stati Uniti e in Canada è una roba impressionante ce n'è due o tre tutti i giorni allora io dico adesso arriva il forum mobilità ma santa pazienza sono diminuiti i viaggi ATM cioè gli autobus le linee le percorrenze i tempi di attesa non c'è personale questo è problema da fronte è stata abolita la 73 mandando nel disagio migliaia decine di migliaia di persone area B che doveva fermare le auto non le ferma perché le auto purtroppo che ingressi a Milano sono sempre gli stessi quando non vogliamo affrontare questi problemi invece ci sarà un forum mobilità di tre giorni dove verranno descritte delle cose magnifiche la Milano del futuro sempre la Milano del futuro io vorrei parlare della Milano del presente e correggere le cose che non vanno perché io posso anche riempirmi la bocca di resiliente sostenibile Gesù Bambino Verde il green il modello Milano ma se poi la realtà non funziona le persone che vengono da me da voi e da tutti gli altri a lamentarsi aumentano io poi non ce la faccio più con tutte queste parole con questa propaganda è tutto marketing cioè è tutto cercare delle belle parole per condire delle cose gli studenti nell'ultimo shop sono passati davanti a Palazzo Marino e hanno urlato questo è il tempio del greenwashing ce l'hanno detto chiaramente basta greenwashing cioè basta far finta di pennellare di verde delle cose che verde non sono green e mobilità sono un po' i grandi temi sui quali comunque la giunta viene attaccata da tutte le parti da tutte le parti perché come dice lei da tutte le parti cioè non è che sia io io tra l'altro non ho cattivo carattere un carattere direi meraviglioso umile e modesto soprattutto io in inglese ragazzi ma mio padre che tramviere quinte elementare comunista partigiano lui terminava le discussioni con me con una frase lapidaria nessun obiettivo quando uno ti dice così ecco l'obiettivo basta non c'è non c'è discussione il tema il tema della mobilità è molto molto sentito a Milano e lei ha già anticipato il discorso sulla 73 noi abbiamo avuto Davide Borghi assessore municipio 4 settimana scorsa a parlare ci vuole dire un po' invece il suo punto di vista sulla vicenda la 73 che ricordiamo è stata soppressa perché più o meno l'M4 sembrerebbe ricalcare un po' lo stesso percorso più o meno più o meno allora è semplicissimo è entrato in funzione l'M4 che è una cosa meravigliosa perché le metropolitane ci aiutano e ci risolvono tantissimi problemi però la giunta ha deciso che entrando in funzione l'M4 sarebbe stata abolita la 73 che era una linea di bus che andava diciamo dal centro di Milano fino a Linate però due cose uno non fa lo stesso percorso della M4 secondo anche lo facesse la M4 fa fermate ogni 500 metri l'autobus è importante a Milano perché vada per tutto quindi l'autobus serve molto alla cittadinanza per quello la cittadinanza adesso è assolutamente inferocita ma magari alcuni ascoltatori non lo sanno ma per due mesi è stata lasciata l'intero Viale Forlanini che sono tre chilometri e mezzo senza mezzo pubblico perché c'è una fermata dell'M4 all'inizio di Viale Forlanini appena dopo i tre ponti e una fermata dove c'è l'aeroporto in mezzo non c'è niente quindi la gente che abita in mezzo ad esempio il villaggio dell'aeronautica sono rimasti completamente isolati ma mi sembra una cosa che un comune può fare qualcuno non dico tanti ma un tecnico un mezzo tramviere di consulenza ci poteva essere la 73 era una cosa molto utile e va rimessa è stato un errore toglierla adesso facciamo un pezzo un pezzettino un pezzettone abbiamo ascoltato i cittadini i cittadini dicono noi abbiamo bisogno della 73 dal centro all'inarte vogliamo ascoltare i cittadini o vogliamo ascoltare non ho capito più vedendo le foto e la partecipazione in quella sala mi viene da dire che per forza dovranno ascoltare i cittadini sono più di 200 persone sì abbiamo fatto la mia commissione che è quella mobilità ambiente nella parrocchia della chiesa di Viale Corsica ovviamente davanti alla fermata dell'ex 73 e alle 11 di mattina c'erano più di 200 persone che molto chiaramente hanno detto che abbiamo causato grossi disagi assenta pazienza ma noi siamo per causare i disagi delle persone o per migliorare la vita delle persone questa è la scelta c'erano 200 persone ma non c'era l'assessore alla mobilità Rianna Censi ricordiamolo sempre che era stata invitata giusto consigliere dimmi tutto Fabio vedo che no 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 io poi la domanda finale ce l'ho però per Monguzzi nel senso che in tutto questo anzi la faccio adesso in tutto questo Monguzzi come si fa però a stare ancora in questa maggioranza e soprattutto ci arrivate alla fine dei tre anni o la legge diciamo blinda sindaci alla fine non vi può dare più di tanto perché sarebbe un suicidio se no diciamo anche questo ricordiamo che se cade il sindaco cadete anche voi ma poi sarebbe un'intenzione magari non lo so questo le chiedo Monguzzi il mio obiettivo è che nei prossimi tre anni si facciano cose utili che sono quelle che ho detto fino adesso che ne abbiamo parlato e quindi che bisogna cambiare in modo molto molto importante cosa che dicono tutti il modo di operare bisogna fare delle cose concrete fino adesso abbiamo fatto tanta propaganda e tanto marketing le basterebbe anche un rimpasto diciamo di governo non so con un cambio di assessori beh il mio sindaco viene dal privato e spesso ci ricorda l'efficienza del privato se un'azienda privata va male qualche dirigente lo cambiano ci sono secondo me tantissimi giovani molto molto preparati e molto appassionati che potrebbero aiutarci a diciamo a fare bene le cose io non voglio far fuori nessuno ci mancherebbe stiamo tutti lì tutti hanno una mamma dei figli che sennò piangerebbero ma guardi però aggiungiamo magari dei giovani che facciano delle cose noi abbiamo bisogno di fare delle cose e di non fare delle stupidate l'abolizione della 73 è stata una stupidata colossale ma voi dovete sapere in consiglio comunale lo dicono tutti ma non io e altri 12 tutti e 48 i consiglieri comunali dicono sta cosa però la 73 non viene rimessa e forse c'è qualcuno che c'è la testolina un po' miocchina è anche è anche difficile spezzo una lancia così che stare ma si ridifende qualcuno immagino sia particolarmente difficile adesso campagna adesso le faccio questo esempio Monguzzi settimana scorsa c'era lo sciopero come lei sa però ATM non aderiva lo sciopero la campagna marketing pubblicitaria come possiamo chiamarla su social sulle pagine del comune di Milano sostanzialmente c'era questa slide in cui si diceva sciopero ATM no non si diceva ATM va comunque si diceva anche se c'è sciopero area B area C sono comunque in funzione allora in questo caso la narrazione secondo me porta a proprio a far incazzare la gente perché poi sotto c'erano solo insulti ovviamente come dire non dire niente facevi prima esatto perché si fanno questi scivoloni di comunicazione spesso volentieri e anche poi di forma perché poi lei dice è tutto marketing è tutta pubblicità ma poi sbagliano anche quello a volte risulta poi appunto risulta palese il greenwashing in certe azioni che cos'è che spinge secondo lei Bagliamonti non abbiamo citato Bagliamonti ma sappiamo benissimo che lei è stata in prima linea su quella vicenda lì e anche lì il consiglio comunale nel suo intervento l'ha detto perfettamente il consiglio comunale sa bene com'è andata su Bagliamonti e com'è andata com'è andata ci ricordi com'è andata allora esatto Bagliamonti è stata una cosa ridicola doveva deve nascere il museo della resistenza si poteva fare da un'altra parte però è stato scelto contro il nostro parere di farlo lì per carità andiamo avanti e si potevano salvare tutti gli alberi ai lati noi l'abbiamo chiesto da tempo il sindaco e l'assessora Grandi hanno detto no no non si possono salvare il sindaco a un certo punto ha detto se volete salvare i glicine allora non facciamo il museo della resistenza a quel punto è intervenuto il presidente nazionale dell'AMPI che ha detto noi vogliamo il museo ma vogliamo salvare anche gli alberi soprattutto perché i glicine e due dei tigli non c'entravano niente col progetto del museo cioè non avrebbero interferito con assolutamente quindi il sindaco era Grandi totalmente isolati hanno cambiato idea ma era una roba talmente semplice talmente naturale che bisognava capirlo subito ma ci sono voluti 48 consiglieri comunali che hanno firmato un ordine del giorno per salvare gli alberi 54.000 firme il mondo della cultura che si è messo in mezzo per l'ABC salvare un albero che non ha alcun motivo di essere abbattuto è l'ABC e che a volte come avete detto non si capisce io a volte mi chiedo ma perché fanno così e non lo so Vonguzzi non lo capiamo noi ma lei speravo che sapesse perché cioè lei è lì non lo sa neanche lei e io chiederò voi e io dico voi siete giornalisti brillanti esplicaci entrate nell'animo umano quando li intervistate chiedetelo ma perché ragazzi fate anche perché posso dire Vonguzzi non è neanche così facile intervistarli a volte e basta chiudo la polemica qui e beh ci credo perché poi venire cioè finché finché ci sono le conferenze stampa dove davanti c'è il solo giornalista ma se è una radio in cui dall'altra parte poi ci sono i cittadini il cittadino è come una formica nel suo piccolo poi si incavola risolto e poi la salutiamo Vonguzzi risolto risolto tra virgolette lo scivolone su Baiamonti e Glicine subito dopo quello sul circolo combattenti e retuci sostanzialmente no? anche in quel caso lì cioè è paradossale la creazione di un museo della resistenza che mette d'accordo tutti è sempre quello il discorso quando ci sono cose che mettono d'accordo tutti comunque con la narrazione con la comunicazione eccetera si crea una polarizzazione che porta adesso non voglio usare all'immobilismo punto punto esattamente come ha detto lei e quindi ci vogliono dei giovani nuovi che sappiano fare le cose senza fare errori clamorosi come sono stati fatti fino adesso Vonguzzi lei ha tanta fiducia in questi giovani vedo lo dice spesso nel senso ha molta fiducia nelle nuove generazioni no 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 io non ho fiducia nei giovani che è una roba così gratis fiducia nei giovani o fiducia in quelli biondi a sfiducia nei vecchi no 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 so che noi possiamo contare sul fatto che ci sono anche dei giovani preparati appassionati e seri chiaro lui vuol dire che farebbero le cose e quindi noi dobbiamo rinnovare la nostra collezione potendo aggiungere dico non sostituire o creare non piccola nessuno non piccola nessuno non demolisce o piccola niente ok ma io ve l'ho detto io sono di ottimo carattere penso che tutti hanno una mamma che poi soffre fa soffrire le mani no però facciamo bene le cose ragazzi perché stiamo amministrando una città non siamo una grande città non guzzi con questa nota di ottimismo facciamo così la ringraziamo tantissimo per essersi collegato con noi per questa lunga intervista quindi grazie mille e ci risentiamo e la ringraziamo anche perché evidentemente si è lasciato scappare che comunque ci ascolta ma poi so che volevi dirvi una cosa io non ho detto che vi ascolta io ho detto che vi controllo perché volevi dirvi che secondo te lui è il consigliere più pop inteso di popolare ma radicale popolare e radicale quindi nella tua classifica di consigliere lui è quello più pop sì pop da quel punto di vista tipo la pop art cioè in quel senso ok va bene Monguzzi grazie mille buon lavoro grazie grazie a voi grazie mille allora consigliere Monguzzi continuiamo con la musica l'ho messa apposta perché se da una parte c'è il consigliere Monguzzi che quando c'è da dire le cose le dice dall'altra parte ci sono i No Doubt con Don't Speak